Il tinto buco alla tenda, vieni qua. Vieni, vieni. Ma fargli delle mafalde intanto, per rendere il filo. Mafalda, eccezionale. Una merda. Il barbecue. Poi, si arriva qui, vi mostra un'altra umili di mole. Una in versione estivo, l'altra in versione senza picco. Questa è versione estivo? C'è il mura praticamente. E qua è la versione senza picchietti, praticamente un sacco. Oh cazzo, il te lo è andato via, devo sistemarlo. Basta, adesso... Sei contento? Sono felice, aspetta, qua c'è un'altra cosa. Vedi quello? Quello è il contatore delle luce. Dopo noi, rubare, rubare, rubare! Ok, basta dai, stiamo qua.